La domanda clou La domanda clou La domanda clou La domanda clou Bene o male Quello è una delle cose Che preferisco e mi riesce meglio Al centrocampo siete comunque In pochi, credi che ci sia Bisogno di intervento Della società in tal senso? No, guarda Di mercato naturalmente Non penso di qualcosa Però più che in pochi Magari ci sono tanti giocatori Adattati nei ruoli come Andrea Che non penso abbia mai ricoperto questo ruolo La stessa cosa a Togni Che penso Secondo il mio punto di vista Che sia più un regista Quindi magari adattarsi non è facile Però Con il lavoro Così con le partite Si prende il ritmo Quindi non L'importante è applicarsi Poi Chiunque può cambiare ruolo Quello non ci sono problemi Le impressioni su mister Zeeman E sulla persona Zeeman Ma pensavo fosse una persona Un po' più umbrosa Invece è molto simpatica Scherza molto con noi Quindi no Rispetto Poi vabbè Per quanto riguarda La parte tecnica Così Non sto qui a spiegare Quello che ha fatto Così Cosa ti ha colpito Zeeman? Ma mi ha colpito La semplicità Nello spiegare Le sue idee Con questa semplicità Fa sì che Di acevolare un po' tutto il lavoro Un po' a tutti E non per niente Penso che Queste poche uscite Che abbiamo fatto Anche se con squadre Di più basse categorie Abbiamo fatto vedere Un buon gioco La stessa partita Con il rialzo Sedade Che era Un avversario superiore a noi Siamo riusciti A arrivare davanti al portiere 4-5 volte Con molta facilità Ci sono tante cose Da migliorare Perché lui Penso che sia Un perfezionista Quindi Sta a noi Adesso applicarci E continuare A lavorare Su questo senso No Magari L'impatto Intimorisce un pochino Sapendo che Hai di fronte Un allenatore Che È stato allenatore In Serie A Per tanti anni Con la Lazio A Roma Grandi squadre Non squadre Di media-bassa Un pochino Ti intimorisce Però piano piano Che ci lavori Insieme Scopri che È una persona Umile Che ha le sue idee Le porta avanti E ci si può Parlare benissimo Quindi Non In questo momento Siamo tutti Uniti Da stessa parte Pronti a Mostrare In campo Quello che Ci chiede lui Ma Io penso che Individualmente Questi giocatori Qui Sono giocatori Importanti È Normale Che magari Cambiando ruolo Adattandosi In altre Posizioni E qualcosa Si possa Perdere All'inizio Però Quando un giocatore Intelligente Può Ricoprire Qualsiasi Posizione Del campo E penso Che questi due Giocatori Siano appunto Apposta Per Fatte apposta Per adattarsi Giocando davanti La difesa È una posizione Il campo Che Ci vuole Una certa Autorevolezza E Una certa Personalità Non è detto Che sia io Potrebbe essere Anche qualcun altro Però Di sicuro Bisogna Cercare di prendere In mano La squadra Specialmente Diciamo Sul campo Sul terreno Poi fuori dal campo Ci sono tanti Giocatori esperti Come Marco Andrea Damiano Quindi Il campo però Non ti fa paura Insomma No No Assolutamente È un ruolo Mi ci ripeto Quindi Non ci sono Problemi Tra poco Sarà campionato Che ruolo Reciterà Questo Pescara E da quale Dei tuoi compagni Ti aspetti Grandi cose Ma Sicuramente È un po' Un incognito In questo Momento Perché Abbiamo tanti Giocatori Giovani Che Affrontano Il campionato Di Serie B Per la prima volta Però Giovani Di qualità E quindi Si può fare Molto bene Però Allo stesso tempo Sappiamo Che il campionato Di Serie B In tutti questi anni È un campionato No Ma non mi Non mi sbilà Ma neanche se Avesse avuto No No Ma neanche se Avesse avuto La tua sensazione La mia sensazione Guardandole amichevoli Però sono sempre amichevoli La sensazione È che Si possa fare molto bene Però Il campionato È un'altra cosa Abbiamo corsa Abbiamo organizzazione Un mister Che ha tanta esperienza Quindi Io spero Di arrivare Più Più in alto possibile Magari anche A ridosso Di queste squadre Qui Queste squadre Attrezzate Come Torino Qua dove va Sampdoria Bari Poi il campo Che parla L'anno scorso È successo Il Novara Andando in Serie A Direttamente Da Serie C E la stessa cosa È successo Due anni fa Con il Cesena Quindi Bisogna correre Dai Sì Infatti Perché Sono aspettato Una promozione Da tanto tempo Però Preferisco Parlarne più Avanti Sì Sì